siamo mute mettete tutti i mute per favore tutti i mute io muto il mio telesono non mi telefona mai nessuno ma non so perché allora fammi controllare se tutti siete in mute mi sembra proprio di sì nessuno in arrivo quindi possiamo cominciare faccio la prima domanda a Luigi Luigi in tutti i tuoi romanzi storici pubblicati con la lepre si parla di un mondo che finisce e di un altro che sta nascendo insomma tu scegli ogni volta come sfondo delle tue narrazioni periodi di transizione così nella pazzia di Dio c'è la fine della materia del mondo contadino e l'avvento della civiltà industriale come faccio un'altra persona l'avvento della civiltà industriale in Italia è anche l'avvento di una nuova e tracotante arroganza e volgarità nel mantello di Forfora c'è il passaggio dal mondo pagano a quello cristiano nel notturno bizantino c'è la caduta di Costantinopoli è la fine di una civiltà ma anche il rinascimento che è una delle concause del rinascimento sono i profughi della caduta di Bisanzio con la lepre abbiamo scelto questi tuoi romanzi proprio perché quelle vicende che in alcuni casi sono molto lontane nel tempo possono farci comprendere meglio l'epoca in cui viviamo come prima domanda ti chiederei di parlare di questi tre romanzi e di come ciò che essi narrano potrebbe rendere più comprensibile quello che accade oggi intanto diciamo una cosa e la vicina ti col microfono anche se no non ti sei tanto bene i miei romanzi hanno qualcosa di comune certamente ricomincia da capo e fai una lezione a più perché se no non viene registrata la cosa vedo sì allora i miei romanzi hanno alcune caratteristiche la prima è quella di evitare i cliché come dicevamo prima io non so chi ci ascolta ma insomma non ne posso più di poliziotti che vedono i morti o che parlano con la moglie morta e che vivono in posti da cartovina che è un modo per renderli umani a davvero poco prezzo la seconda della cosa è rispettare le regole narrative senza inventare cose strane ridurre la scrittura all'osso come diceva Copenagno come ho scoperto recentemente sto leggendo un libro sul Tao le parole è una cosa bellissima le parole vere non sono elaborate e le parole elaborate non sono vere mi pare una cosa da seguire sempre e poi c'è l'ambizione di fondo di costruire attraverso i miei romanzi una specie di storia alternativa a quella che ha fatto su queste tre cose io ho cercato di costruire i miei romanzi aggiungo una cosa ci sono scrittori che scrivono sempre della stessa epoca perché conoscono quella la conoscono bene per varie ragioni e non si muovono da lì io invece non scrivo di ciò che so ma di ciò che voglio imparare cioè ho un metodo di ricerca lascio andare la curiosità e quindi le epoche diverse mi attraggono mi danno qualcosa che se scrivessi sempre della stessa epoca degli stessi anni mi hanno direttamente allora la pazientia intanto diciamo questo la bussola che io ho è una bussola di tipo cercando di costruire personaggi incredibili significa studiare il pensiero dell'epoca studiare il modo di vivere dell'epoca l'abbigliamento il cibo le tecniche militari la religione l'arte eccetera in questo mi aiuta il fatto che ho fatto degli studi molto frequenti ho studiato medicina ho studiato scienze politiche ho studiato arte e quindi tutto insieme questo io lo temo attraverso il mio contesto perché i momenti di cambiamento perché certe dinamiche sono più evidenti nei momenti di cambiamento allora vado al ritroso dalla pazia di Dio che è quello che parla della guerra mondiale torniamo indietro dietro la pazia di Dio c'è la immigrazione di inizi novecento verso le Americhe c'è l'Africa vissuta come mito quando ormai le altre nazioni ormai erano in pieno colonialismo e poi c'è è un romanzo di formazione un romanzo di formazione in un periodo che cambia quindi questa persona si deve formare Andrea si deve formare deve crescere ma nel frattempo tutto attorno a lui il romanzo va dal 1895 in cui nasce Andrea alla marcia sul cuore si ferma lì e ci sono personaggi che seguono dal primo amore di Andrea che era la rosa alla scoperta e il rapporto col padre alla guerra e così via l'ottorio bizantino che parte invece dalla dalla caduta dell'intero di Costantinopoli ha come sfondo una città assediata è una famiglia nella bufera se noi pensiamo a quante persone stanno in questa situazione appena sovra in Siria nel Medio Oriente in generale capiamo che c'è una forma di attualità poi alla fine le guerre creano sempre le stesse situazioni c'è un personaggio un po' patetico un po' da tragedia che è l'imperatore l'ultimo imperatore che è anche un imperatore consapevole che sta combattendo la sua ultima battaglia ma lo fa con onore resta al suo posto fino a morire sullo sfondo e c'è un avventuriero che sembra uscito da un romanzo di Tumac che è Giustiniano che organizza ma io non vedo niente qui voi vedete che organizza la resistenza c'è un'Europa c'è un'Europa che è chiusa ai propri interessi esattamente come oggi c'è un sultano tracotante il quale ha l'unico problema di voler emulare e superare il pari sullo sfondo c'è il mio platonismo ci sono i libri c'è il sapere che passa dall'Oriente all'Occidente grazie a questa caduta di questa città e c'è la tecnologia cioè la tecnologia di guerra perché in fondo il Costantinopoli cade perché ci sono i nuovi i nuovi cannoni che fanno cadere mura che da mille anni erano lì e non facevano passare lì quindi ancora una volta un ordine che subentra all'Aide del mantello di Portora che è ancora accantito si racconta di Giuliano La Tossa da di quello che è il suo tentativo disperato di fare in modo che torni il paganesimo anche qui in fondo c'è il mio platonismo è un tentativo fallito perché la domanda che mi ero posta all'inizio era ma può un uomo cambiare la storia non può perché le variabili sono moltissime dietro tutto questo ma non soltanto dietro la storia di Giuliano perché credo che arriviamo almeno fino a Napoleone c'è il il mito di Alessandro Magno l'emulazione di questo grande condottiero che in poco tempo costruisce un intero e è un tarlo che ha preso molti ha preso molti e comunque ha preso molto anche Giuliano e sullo sfondo c'è anche un'altra cosa la brutalità del primo cristianesimo cosa di cui parlano pochissimo e che somiglia molto a quella che è stata fatta e che oggi viviamo con del senso restivano di nero distruggevano chiese statue le facevano a pezzi le facevano calce e successivamente molti monoscritti antichi sono stati grattati per poterle scrivere e riportare sul pergameno che era rara e costosa i padri della chiesa e anche noi di quello che era l'antificato verso l'ottanta per cento circa quindi questi sono i tuoi romanzi di cui abbiamo parlato di cui mi hai chiesto e la bussola come ho detto è la dinamica sociale e il tentativo il tentativo è quello attraverso le cose che si provano nei vari periodi costituiscono lo spessore dei personaggi quindi non ho visto la moglie morta ma la filosofia mi ho trattato non per altri romanzi che ho scritto che sono inventati nel terzo o quarto secolo ci sono protagonisti che sono seguaci di Seneca e con quello dialogano e con quello risolvono casi la sfida in fondo è proprio questa di dare spessore ai personaggi senza ricadere nei tuschi questo è il concetto bene mi aggancio a quanto stai dicendo per chiederti ancora quanto spazio hanno in questi tuoi romanzi la narrazione della storia del pensiero della filosofia e delle vicende religiose dei periodi in questione e poi c'è qualcosa uno stato d'animo che accomuna protagonisti di epoche così diverse un certo smarrimento per esempio sì lo smarrimento e la malinconia credo che siano il lacotifere dei miei dittori come ho detto cerco di restituire ai miei personaggi il pensiero la lingua i meccanismi psichici i rapporti sociali quindi cambia anche un po' lo stile in base al periodo perché non è detto che un antico romano ragioni come ragiona un uomo dell'ottocento e dunque se nell'ottocento ho usato il dialetto per parlare di periodi più antichi ho cercato di utilizzare cose che erano comuni nel periodo di comune di fondo c'è questo l'impreparazione umana di fronte a ciò che accade sempre non ci si aspetta mai quello che poi succede adesso lo vediamo col coronavirus noi capiamo sempre tardi sullo sfondo c'è un'altra cosa che accomuna quasi tutti la ricerca del senso della vita dunque come i personaggi si pongono di fronte alla condizione mortale insomma alla condizione di poter morire questo ovviamente in attorno bizantino significa il rapporto con il nemico nella pazienza di Dio significa non solo la prima grande guerra con quella cosa di trincea io non riesco a immaginare gli stress post-traumatici che abbiamo importato alla fine della prima guerra ma c'è anche il fatto che la spagnola una cosa che quando ho scritto il libro non parliamo nessuno ha significato un cambio brusco di generazione questa è un'altra cosa interessante cioè una generazione che aveva davanti qualcosa come una prima linea di un esercito all'improvviso non ce l'ha più e quindi costretta persone e ruoli e oneri che fino a un momento prima appartenevano e questa è una cosa che acconima tutto l'eropo poi c'è una cosa che sulla condizione mortale c'è questa cosa nel passaggio dalla Grecia per i greci la condizione era quella mortale noi pensiamo di essere diventati quasi la morte è un incidente è una malattia ma noi non è un fatto non è un problema e quindi il dolore dell'esistenza per i greci era il fatto che si viveva ed era uscito nella vita il dolore dell'esistenza quando siamo passati dal periodo classico al cristianesimo per giustificare questo dolore si è inventata una colpa e poi una retenzione e poi un meccanismo diverso perché non è solo filosofia o storia del pensiero ma ha significato i comportamenti concreti nella vita e quindi i personaggi su cui si muovano in maniera tale da essere coerenti con quello che succede con quello che succede è il più migliore oggi se consideriamo una cosa che dico sempre l'Europa è divisa tra protestanti e cattolici nessuno ci crede più però la sostanza è questa che a nord ci sono i protestanti e quindi la ricchezza è una benedizione e a sud del mondo ci sono i cattolici che non credono più non credono più in fondo ma comunque nei comportamenti quotidiani questa cosa è una cosa interessantissima bene passo a un'altra domanda ricordo che in notturno bizantino c'è una forte analogia con quella che è stato il comportamento dell'Europa con la Grecia cioè Bisanzio che chiedeva disperatamente aiuto all'Europa e alla Chiesa che facevano orecchie da mercanti hanno lasciato che Maometto II facesse strame di Bisanzio questa cosa succede ancora in realtà per motivi diversi però sul fondo rimane questo fatto che noi non vediamo la realtà la ragione la nostra ragione vede ciò che lei stessa prodisce con un proprio disegno quindi se il disegno cambia cambia il nostro modo di venire la realtà e questa cosa è importante nel rendere plausibile questo è il concetto allora la mia prossima domanda riguarda perché Luigi diciamo che ha pubblicato una bella fetta dei libri della lepre perché ne ha pubblicati otto e se ne appresta si appresta a pubblicarne un nono e parliamo allora dell'arte di immaginare il futuro perché un altro tuo romanzo pubblicato con la lepre è Il nido della fenice e più generale in generale parliamo di fantastico in rosso velabri nel labirinto dei sarra le vicende del mondo reale si mescolano con quelle di creature che nel mondo reale non fanno parte tra l'altro tu Luigi dirigi per la lepre la collana fantastico italiano e quindi a questa domanda su immaginare il futuro e sul rapporto con il fantastico unisco una domanda che è questa perché chiamare questa collana fantastico italiano quando esisteva il termine fantasy è una cosa che a me è fatto estremamente piacere che finalmente si evita un termine inglese laddove ce n'è uno italiano però c'è anche una sottile differenza di genere tra il fantastico italiano che tu proponi in questa collana e il genere fantasy come lo si intende comunemente allora partiamo dal fondo che si stava del fantastico italiano nasce con Gianfanto De Turris Sebastiano Fus e pochi altri nella metà degli anni sessanta abbiamo tentato di rifarci non più alla mitologia nordica ma alla mitologia e ai miti e alle leggende legate alle regioni italiane questa cosa che allora era un'innovazione assoluta nessuno doveva vedere oggi è spenso le tecnologie di tutti le regioni regione per regione il fantastico come cambia se sembra della regione in Italia il problema è questo che immaginare il futuro è la cosa più complicata che esiste il domando storico è molto facile perché immaginare il futuro significa mettere assieme tante di quelle variabili delle scaccettature che ce ne sono e non non è un caso puoi ripetere che si è interrotto il tuo audio mentre parlavi l'ultima frase dicevo che le sfaccettature e le variabili sociali sono troppe per immaginare il futuro per il dire e quindi in molti romanzi che ha intrapreso questa strada in realtà non hanno indovinato quasi nulla di quello che sarebbe il futuro si è cominciato a parlare della rete solo quando la rete già cominciava ad essere in realtà nessun romanzo di fantascienza parla dei telefonini e invece tutto questo poi significa la televisione interattiva nei grandi romanzi degli anni 60 60 80 non il problema è che le variabili in cui noi immaginiamo partono sempre da quella che dicevo qui la ragione nostra che vede vede ciò che lei stessa accadisce quindi nel momento in cui la proiettiamo verso il futuro quella realtà che noi vediamo la proiettiamo e la ingrandiamo e la andiamo diversa e però non ha niente a che fare con ciò che poi davvero succede quindi il fantastico che funziona meglio è il fantastico che utilizza la metafora mi riferirei agli unico agli archetico alle immagini significative non lo so che il simbolo rimanda a una cosa sconosciuta il segno di io è una cosa e io parlo solo di tecnologia certamente cadrò in errore se invece utilizzo il simbolo è possibile che attraverso il simbolo che io oggi interpreto in una certa maniera il futuro venga interpretato in un anno che fa 1984 per esempio è quasi dal punto di vista tecnologico è tutto sbagliato ma rimane il meccanismo di fondo che è quello del simbolo e poi e poi ci sono i numeri e le variazioni Frankenstein è un simbolo i golem è un simbolo l'intelligenza artificiale oggi per noi o la interpretiamo come simbolo io sto trovando la domanda che sto scrivendo a fare questo immaginare che apporto è tra l'uomo e l'intelligenza le domande che si pone un uomo le domande che si pone un'intelligenza l'uomo che vuole farsi dire perché dietro al campestario nel golem nel giudizio artificiale c'è sempre questo creiamo qualche cosa ora quindi direi che il fantastico vero è il fantastico del simbolo e della metà attraverso questo possiamo capire il presente e forse qualche brambelle di questa cosa io l'ho fatta per l'abbimento pesata in cui la memoria sepolta è costituita nel centro di una collina dalla diventata gamba il rosso del labbro lo senti lo senti? non so come raccontare questa cosa perché non so dove non si sentiva più è mancato soltanto che la memoria era custodita e poi non si è sentito la conseguente della frase la memoria stiamo parlando quindi del labirinto pesata la memoria è custodita da una divinità all'interno di una collina la divinità è una metafora della memoria in realtà in quanto tale funziona di più c'è da dire anche questo che se noi utilizziamo la metafora e l'archetico riusciamo a fare cose che non potremmo fare in maniera diversa se tu pensi che alcuni romanzi anche alcuni grandi romanzi altri molto più grandi non so Don Quixote e Sando che avranno dei paesi diversi ma entrambi sopravvivono i propri autori perché sono metafora perché sono simboli perché sono personaggi archetipici quindi c'è una grande possibilità in questo sia di costruire immagini del futuro sia di raccontare il passato sia di raccontare il passato in maniera più complessa ed è più adatta ad essere compresa da persone via per vedere diciamo che è un romanzo proprio storico in vecchio anno per meno del romanzo di fantascienza ma non del romanzo fantastico come l'ho ancora indicato io Luigi abbiamo parlato di raccontare il passato di raccontare il futuro e di raccontare anche l'invisibile e il fantastico ma in un libro che abbiamo pubblicato nel 2018 cioè Volgograd ti sei misurato con il presente e col degrado delle periferie urbane quale sfida deve affrontare uno scrittore che voglia narrare il presente invece ora il presente è forse difficile quanto raccontare il futuro perché raccontare un presente significa cercare di uscire dal proprio meccanismo per cui la ragione vede solo ciò che lei produce ma avere una visione più generale io ho tentato di farlo in Volgograd raccontando storie diverse di personaggi diversi che toglievano aspetti vari della realtà non so quanto ci sia riuscito la realtà il problema di oggi è che l'informazione ce n'è tanta le tech news ce n'è talmente tante che la realtà ci sfugge e c'eravamo posti la domanda io tre qualche giorno fa sul come si racconterebbe l'epoca del Covid diciamo non lo sappiamo non lo sappiamo perché mancano talmente tante cose che finché non diventa un po' storia passata non sappiamo mai cosa dovrebbe succedere se dovessi dire un aspetto interessante narrativamente di quest'epora del Covid 19 che diresti? direi parlerei dell'ubriacatura dell'eccesso di informazione e di quanto l'eccesso di informazione può nuocere alla salute mentale di chi ascolta di chi la subisce allora prima di dare la parola alle persone presenti poi spiegherò come fare per fare le domande a Luigi in modo tale che io dia l'audio alla persona che fa la domanda un'ultima cosa ci vuoi dare qualche breve anticipazione di quello che uscirà con la nostra casa editrice e se vuoi anche con altre case editrici dato che sei qua vi anche con altri editori noi noi abbiamo immaginato una trilogia degli assedi che partiva da la parola di Bisanzio e di Porturlo Bizantino o l'assedio di Bisanzio e poi l'assedio di Otranto di Otranto e probabilmente se tu sarai d'accordo si concluderebbe la trilogia con il percorso che mi è uscito in Sudoni che parlava della nel 1527 per la presa di un sacco di ruva quindi sarebbero due domande e poi la trilogia degli assedi mi pare anche un bel titolo per la trilogia e poi come prossima uscita invece abbiamo Il Signore delle Furie Danzanti che noi abbiamo già pubblicato con Rosso e Labro una prima indagine di questo investigatore del IV secolo dopo Cristo che sono gialli che si svolgono in quella Roma che si chiama Caio Celso questo è un altro racconto il cui protagonista è Caio Celso no? Sì questo è un altro racconto in tutto il mio ministro è Caio Celso questa volta Caio Celso si consunta con realtà diverse quindi con un intero sempre più un posto salvato e così via è stato ovviamente rivisto rivisitato rimesso a posto in modo tale che non fosse la riedizione di un libro precedente ma che esse qualcosa di male devo dirti che questa cosa io come tu sai te l'ho riproposta anche perché ho avuto molte amici ma quando esce di nuovo un posto di Caio Celso allora rimettere a posto questa roba di Caio Celso e scrivere il terzo che ho in un racconto lungo da 64 pagine mi pare anche una bella cosa e poi ci sarà un libro che esce solo in ebook se ne puoi parlare così poi diamo solo in ebook speriamo non solo in ebook però è il libro delle inquietudine di persone è una cosa che io ho letto riletto guardato compilizzato poi mi sono reso conto che se non si restringeva se non si raccontava in un'altra maniera è un libro molto importante per aiutare qualcuno ad avvicinarsi a questo testo che è vero e bello ho immaginato una storia a metà tra il finetto il comienzo disegnato è una ficnover come si sa praticamente illustrato in cui ci sono un essoa e uno che sono personaggi che camminano per Lisbona e si raccontano le difficoltà dell'essere del vivere e dell'essere scrittore per essere pochissimi non lo so in molti non si può mai capire ma sapere però insomma è una cosa che mi piaceva mi piaceva e la faremo ci sono dei bellissimi disegni tra l'altro fatti da Luigi che è anche un pittore oltre che uno scrittore dunque passiamo alle domande per fare le domande in basso se puntate il vostro mouse in basso sulla prima linea dello schermo c'è scritto chat se cliccate su chat si apre uno spazio dove potete scrivere basta che scriviate vorrei fare una domanda poi vi do l'audio e fate la domanda così io posso stabilire un criterio di priorità e non sovrapporre le persone che vogliono fare una domanda a Luigi quindi aspetto che qualcuno si prenoti per fare una domanda e nessuno per adesso oppure anche un metodo più rozzo rozzo ma efficace se nello schermo mi alzano la mano e fare così e non gli do la parola Isabella non riesco però a darle Isabella ecco ok allora Luigi ciao di nuovo buonasera a tutti leggendo la pazzia di Dio c'è una cosa che mi ha colpito molto quando Andrea capisce della sua propensione al disegno all'arte lui a un certo punto dice che capisce d'improvviso che a lui interessano delle cose che non interessano a tutte le persone che gli stanno intorno e dice capì così che cosa significava la solitudine e spesi tutta la vita praticamente a a comprenderlo l'altra cosa in parallelo a questa che mi ha colpito è stata questa sensazione della corsa alla guerra e che è uno specchio magico dice dice Luigi in cui ognuno vede quello che desidera quindi tutti si buttano in questa avventura chi per una ragione chi per l'altra ora la mia domanda si articola su questi due aspetti vorrei sapere innanzitutto se era Andrea che parlava o se era anche un po' Luigi riguardo questa diciamo anima artistica che ti regala tanto e anche un po' di distacco da quello che è lo specchio magico più comune che hanno gli altri e che però mentre ti regala ti toglie anche qualcosa perché questa solitudine che si impara ad apprendere insomma fin da piccolini quando ci si accorge che mentre gli altri corrono magari c'è qualcuno che si ferma a guardare la goccia d'acqua su una foglia volevo sapere se anche per te è stato così eh sì questa cosa che mi interessa a me delle cose a me da ragazzino mi interessa a me da bambino a bambino avevo sei anni facevo i ritrati dei parenti questo mi teneva lontano da tutta una serie di cugini che mi erano compituati era era un'altra cosa questa cosa l'ho vista anche non so quando per anni per decenni ho lavorato in bar non sapevo di che parlare con quelli perché loro parlavano di calcio e basta io non avevo non avevo gli strumenti ero proprio il corriguardo quindi il concetto di arte l'arte che porta solitudine una regala a altre cose di dare una parte che sia una parte del mio insuore per quanto riguarda la guerra l'aspetto energico della vita in realtà è quello che dicevo prima cioè noi vediamo mica la vediamo la realtà noi vediamo quello che pensiamo di vedere e in ogni generazione tu pensa per quanti migliaia di anni l'estate non si andava nel mare si andava in due anni tutti partivano quando ho studiato io i meccanismi dell'anzichinetto ho scoperto che esisteva un meccanismo che si chiamava sposa di maggio il lazichinetto e la sua è una compagna con una piccola cerimonia diventavano marito e moglie a maggio che a maggio si partiva all'avventura non sempre si tornava poi si restava insieme se si era fatto un bottino sufficiente per passare l'inverno se no ognuno tornava a casa sua nella guerra che si vede la possibilità della fortuna di essere eroe di essere in avventura la siriente di retorica e poi invece ci sono le fosse delle delle trincee c'è una l'organizzazione tantissima soprattutto io avevo un'organizzazione tu stai per anni a marcire in un bug come ne esci te ne esci fuori quando i carabinieri ti spingono da dietro non ne ho niente a toccare con quello che immaginavo quello se è e spesso erano gli insegnanti stessi a spirito dei ragazzi ad agro e questo io l'ho riportato ma era una cosa normale i professori vivono di retorica in questa avventura e si pensava all'Iliia dell'Odissea alle grandi battaglie della storia che non era questo quindi in quel caso era un spettamento infatti lo dice il padre e il figlio non è quello che vuol vedere ma Andrea in fondo parte per conservare l'effetto del padre perché il figlio naturale è partito non il padre quindi io non posso farlo può essere da me quindi io non ho legarmi legarmi semplicemente a questa dimensione che ha citato Luigi sul fatto dell'eccesso di informazione la verità è che noi siamo di nuovo in un paese come era il paese dei Sarra dove arriva una quantità di informazione ma la maggior parte di noi non ha gli strumenti per interpretarla e lì non arrivava niente non sapevi dove andavi non sapevi cosa andavi a fare nel momento in cui partivi per la guerra o per l'Africa c'era quindi una dimensione di stupore verso quello che saresti andato a fare a noi invece ci stanno procurando mi sembra una dimensione di io so tutto ci stanno levando lo stupore ma ce lo levano perché noi non siamo in grado di interpretare quello che ci raccontano per la maggior parte non siamo neanche in grado di controllarlo Giovanna non capite non siamo neanche in grado di controllarlo perché controllare tutte le informazioni che ci arrivano sarebbe un lavoro quotidiano da 8-10 ore al giorno guarda io l'ho fatto sul lavoro sui dati sul covid io l'ho fatto per tutto il periodo della quarantena proprio ce lo siamo messo come come scopo di lavorare su questa cosa ed è vero è un lavoro a tempo pieno ed è estremamente complicato però è anche un lavoro che in qualche modo possiamo in parte fare anche da soli acquisendo degli strumenti interpretativi nuovi sì rifacendomi la domanda che mi aveva fatto Alessandro come la racconteresti in questo momento io avrei grosse difficoltà perché non saprei bene stare nella testa di un protagonista o di più personaggi di fronte alla stessa notizia anche di fronte alla stessa notizia perché siamo molto franciani i nostri giudizi prendiamo posizione facilmente soprattutto quando siamo su Instagram su Facebook e così via prendiamo posizione senza sapere bene che stiamo dicendo però a quel punto ci formiamo una convinzione e il mondo attorno a noi si trasforma secondo quella convinzione e tendiamo a cacciare tutto quello che non rientra in quel disegno iniziale e questo è l'esercizio cioè cercare di non fare questo forse è più facile fare una statistica che da scrittore posso aggiungere una cosa mi sono imbattuto in una frase di quel grande scrittore che fu Mark Twain che dice che nel tempo in cui la verità si allaccia le scarpe la bugia ha già fatto otto volte il giro della terra e questa situazione del Covid-19 è stato un po' il paradiso dei complottisti cioè qualsiasi notizia falsa però l'impatto emotivo ha enormi possibilità di entrare nel senso comune mentre la la verità è difficile da capire qual è e anche da soppesare e da distinguere dalle numerose in un paese di biologi come il nostro pensando c'è anche da dire che noi siamo noi possiamo dire sommersi quotidianamente da programmi televisivi non solo quindi dalle cose che dicono le singole persone in rete in continuazione e spesso in contraddizione tra loro non siamo in condizione di sapere cosa succede al di fuori della porta di casa questo è il loro problema io mi sono fidato solo di Trump quando diceva di iniettarsi il disinfettante ecco ti sei fidato è andato bene il resto non mi ha convinto è andato bene questa è la situazione se anche il presidente degli Stati Uniti spara cazzata diventa difficile Cristina Perini vorrebbe fare una domanda adesso le do la parola non riesco ecco salve a tutti no vorrei io sono un po' una mediatrice tra voi scrittori voi editori e lettori perché faccio la bibliotecaria e quindi indirizzo sento insomma le curiosità dei lettori dove vogliono andare e una delle prime richieste che mi sono state fatte quando è iniziata questa emergenza è di consigliare dei libri o comunque delle voci che provenivano dalla letteratura che potessero e non so se più che informare Luigi proprio dare una chiave interpretativa poetica e quindi narrativa a ciò che stavamo vivendo adesso e quindi mi sono sentita tra due fuochi tra un senso iniziale quasi di velleità rispetto alle emergenze forti che provenivano dalla società che aveva necessità di essere curata innanzitutto o comunque orientata con consigli pratici dall'altra parte però una forte richiesta di consolazione detto tra virgolette o comunque una richiesta di strumenti che provenivano dall'arte dalla scrittura nello specifico che potessero aiutare i singoli a capire o ad accettare e quindi mi auguro che invece voi scrittori oggi ce ne sono tanti non soltanto te c'è l'editore Alessandro sappiate trovare quelle parole e quelle vie per aiutarci a capire meglio questo presente che francamente sfugge proprio il fatto che sfugga penso renda ancora più inquieta la vita in questi momenti probabilmente anche nel futuro Sì guarda non credo che sia più possibile cioè la peste raccontata da Manzoni non è la stessa cosa che oggi perché perché oggi abbiamo piano piano costruito il mondo un po' falso nel quale noi siamo in principio noi non siamo più immortali la possibilità di morire non ci appartiene più diventa come posso dire un incidente ma non un fatto naturale all'epoca di Manzoni era un fatto naturale che si morisse oggi ne è lo più noi abbiamo scoperto con il covid la nostra fragilità non si era mai allontanata stava sempre lì ma noi abbiamo costruito tutto un mondo attorno in modo tale che ci sentissimi sicuri quindi cosa è successo questa volta che abbiamo perso ogni sicurezza accanto a quello tutta una serie di cose che si sembravano importantissime perché eravamo sicuri della base che non sono più leere non so per quanto sarà questo ma raccontarlo non sarà in sé raccontarlo come sarà in sé c'è Devor che voleva fare una domanda aiutami ecco eccomi buongiorno buonasera a tutti dunque una delle cose belle di questa situazione qualcuna ce n'è è che si stanno facendo più incontri di questo genere e ne stiamo facendo anche nel mio campo che è quello della sceneggiatura del cinema una delle domande che ci siamo posti in uno di questi incontri è quali storie si racconteranno nel post o nel durante quarantena però in realtà quello che molti di noi si chiedevano è ma quella sceneggiatura che ho scritto una settimana fa è ancora raccontabile è ancora attuale la posso vendere qualcuno me la pubblicherà quindi la domanda che farei a Luigi è questa delle storie su cui stai lavorando delle storie che ha in testa qualcuna è diventata di colpo improvvisamente inscrivibile tu sai che io mi occupo molto del passato e pochissimo del presente quindi in questo senso no sono tutte di istituzione meno una meno una avevo stavo lavorando da anni lavoro ogni tanto a un giallo ambientato nella Roma di oggi era la Roma quando ho cominciato era la Roma del primo Salvini adesso non sarebbe più possibile raccontarlo alla stessa nuova sicuramente devo inventare altri meccanismi devo inventare altre cose però per quanto riguarda il passato è stabile il problema del presente è che si muove con tale velocità che è possibile che la sceneggiatura che è scritta una settimana fa oggi non serve più ma d'altra parte voglio dire non è che devi per forza raccontare quello che succede in quel momento ripeto il concetto della metafora fondamentale tu le usi le vocali hai un paio di sceneggiature e direi la metafora c'è la metafora permette di superare le cose e di rendere continuare a tenere attuabili anche cose che cambiando lo scenario perdono il senso bene se nessuno ha ancora domande da fare chiudiamo l'incontro non vedo né mani alzate ci sono mani alzate no non ci sono prenotate non si è alzato nessuno stanno tutti sul divano guarda Giovanni aspetta che ti do la parola ecco allora non è propriamente una domanda è semplicemente come dire un abbraccio a Luigi aspettiamo queste nuove cose e poi ci dirai la pila di documenti mappe quella di rotturno bizantino era alta circa un metro ottanta la pila di libri mappe perché invece la curiosità di misurare hai avuto un sacco di pazienza no no ho avuto un'esperienza meravigliosa e tra l'altro io l'ho presa come una coincidenza orientata junghiana vista la mia storia di greca con un cognome greca greco del dodecaneso che avevano tenuto appunto gli ottomani quattro secoli sulla groppa quindi è stata una meravigliosa coincidenza orientata non ci sono bizantino è stata una ho l'occasione per parlare con Alessandro non so se l'ho visto ma oggi la nostra traduttrice in greco di notturno bizantino mi ha mandato un articolo in cui c'erano consigli di lettura e c'era notturno bizantino e polostra io mi sono non mi posso dire come mi sento ma consigli di lettura di chi? un gran bellissimo una cosa della radio televisione la radio greca si abbiamo i diritti di notturno bizantino di Grecia e pare che stia andando molto bene il libro e non vedo l'ora di che leggano il mantello di porpore che tra l'altro la Grecia è dedicato no è il notturno bizantino che è dedicato anche il mantello di porpore ha bazzicato con le pari quindi tutto era insomma siamo curiosi siamo curiosi di leggere perché sappiamo come scrivi e quindi siamo curiosi proprio come scimmie di leggere vicina come editor bene vi dichiaro marito e moglie cioè dichiaro chiuso l'incontro e ci vediamo c'è un numero astronomico di incontri previsti per il mese di maggio quindi ci rivedremo per quelli di voi che vogliono parteciparvi ci rivedremo molto presto vi ricordo che su facebook sulla pagina della lepre e anche sulla mia personale quasi ogni giorno ripubblichiamo la lista degli appuntamenti quindi chi non volesse perderli li può ritrovare lì oppure se è iscritto alla mail in list gli è arrivata anche una mail con la lista degli appuntamenti laddove il numero id di zoom e la password saranno sempre le stesse quindi quelle di oggi varranno anche per i futuri incontri un grande ringrazio a tutti ciao grazie ciao grazie a tutti ciao 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 grazie mi sento perché Gianna Radiconcini mi senti? no, va bene no, gorgoglia va bene arrivederci arrivederci, ciao